4 euro al chilo, c'è proprio da essere stupidi quando noi acquistiamo quelle nocciole e invece è più giusto adottare un contadino e andarsi ad acquistare 5, 10, 15 chili di nocciole all'anno. Io personalmente faccio così, ho adottato un contadino ogni anno acquisto 20, 30 chili di nocciole, 10, 15 chili di nocciole.